Ordine contro ordine, ufficialità, poi altre decisioni. La stracittadina tra Atletic Lanciano e Lanciano 1920 è stata accompagnata da giorni di grande incertezza sull'impianto dove giocare, ma alla fine torna nella sua sede naturale più logica in un orario accettabile. Si giocherà infatti domenica alle 14.30 allo stadio Guido Biondi e non più a Ortona dove il match era stato dirottato. Lo stadio ortonese infatti non è a norma per le partite in notturna. Le due società quindi hanno dovuto riprendere a dialogare fino alla scelta del Biondi, non avendo in pratica altre alternative, se non quella di emigrare altrove ma a porte chiuse. La vicenda che ha dell'incredibile per la prima categoria ripropone quanto il Lanciano sia difficile da gestire in questa serie con un'imponente tifoseria e impianti non adatti e non a norma. Adesso la palla passa finalmente al campo con la capolista di Del Grosso che punterà a vincere, conservare il primato e le sole vittorie contro un avversario che ha dimostrato di meritare l'altissima classifica e che promette battaglia. La stracittadina, seppur in prima categoria, è servita.